Ecco, vediamo se riusciamo a farci capire. Buonasera Meloni. Calma, perché non abbiamo vinto niente. Certo, non ancora, però... Niente, ancora niente, dobbiamo stare calmi, mantenere la calma. Ma certo, non... Non c'è ancora deciso niente. Ma no, infatti si vota domenica. Per assurdo, vediamo se riusciamo a farci capire. Vediamo. C'è ancora la remota ipotesi teorica. Eh. Che vingano loro. Ma chi, la sinistra? E chi sono Salvini? Eh dai, siamo seri. Certo, la sinistra. Sì, ma certo, ma può essere. Poi tra noi e la sinistra non c'è tutta stragrande differenza. No, calma, calma, calma. Certo, io sono da Carbadella, poi quelli sono dei Parioli, ma... No, ma non è quello. Sempre Roma è. È vero, Franco? No, no, stiamo... Franco, sposta un po' la macchina. Meloni, con sto braccio giù, per favore. Il braccio della macchina. Sì, no, ma è che braccio della macchina. Allora, vediamo se riusciamo a farci capire. Vediamo se riusciamo a farci capire. Fra destra e sinistra, secondo lei, non c'è differenza. Allora, vediamo se riusciamo a farci capire. E io voglio essere chiara. Sì, ecco, lo spieghi bene. In tempo di pace, quando ci stanno lì, sordi per tutti, che la gente spenna e va a mangiare. Vero, Franco? Quando si sta bene buona con sto braccio. Noi alla sinistra siamo diversi, per esempio. Vediamo se riusciamo a farci capire. Vediamo. A loro piacciono le checche? No. A noi no. Ma non è che... Ma a novembre, quando staremo tutti lì a guardare le bollette al buio... Perché purtroppo a novembre... ...quittarmi qualcuno che ti dice, guardi, io sono fluido. Eh. Ma chi cazzo se ne frega se sei fluido? No, vabbè, ma che c'entra adesso? Mettiti lì e spacca la legna. Ah, dovranno... Poi arriva un altro e dice, io sono immigrato. Bravo, bello te zia. Eh. Quello col culo chiacchierato ha già tagliato la legna. Tu accendi il fuoco. No, va bene. Franco, vero? Ti vuoi spostare? Stia a fuerma con sta bene. Oh, parliamo se chiaro. A novembre i cinghiali, se li maniamo grumi... Ma cosa sta dicendo? Certo, a novembre ci saranno dei problemi. Dico che non voglio più mortificare la legge sull'aborto, non voglio più niente contro l'Europa, non voglio più fare niente contro le famiglie arcobaleno. Ah, questo bene, bene. Arcobaleno. Ma perché ha cambiato... Ma se l'immagina gli italiani prima di novembre, durante le morti, quando non ci avranno più niente alla magnate... Perché sarà così? Se mi sentono dire, io voglio abolire genitore 1, genitore 2... Ma quelli che chiamano genitore 3 mi sfondano. Avranno altre priorità, in effetti. Anche che Enrico è più bravo di me. Ma no. Io ve lo dico, Enrico è più bravo di me. Enrico è bravo, è bravo. Ma cosa fa adesso? Ti ricorda a Denino che dice... Ti ricordi, Franco Denino, quello più bravo. Ma scusate, sembra che lei non voglia governare, però... Allora, vediamo se riusciamo a farci capire, ma ti sembra che io non voglio andare a governare? Stai dicendo che Letta è più bravo. Guarda che se me parte la pena, te sfondo sotto la garbadella. Sì, ho capito. Sì, ho capito. Sotto la garbadella, io cerco di fare la pagata, la misurata, ma poi se me fai analizzato la garbadella. E va bene, va bene. Ti pare che io non voglio governare? E che ne so se... Dico solo che Letta è più bravo di me. Ma non può dirlo a due giorni... Vediamo se riusciamo a farci capire. Vediamo, vediamo. Se stiamo tutti al buio... È più bravo Letta. Se dovremmo bruciare i centrini di ronna, le settimane ritmistiche di zia, le gambe del tavolino dove magnite fuori, per scaldasse... Perché non ci sarà il gas. È più bravo Letta. Ve la franco? No, stia buona. Non la capisco, però. A coso? Ma allora sei de' goccio? No, ma perché è strano. Sei de' goccio? Stia ferma. A sto giro, ma non mi avanti Letta. Ma non può mandare... A Letta piacciono le devianze, no? L'ha detto, sì. E deviamolo verso la sfiga, no? Ma no, ma non può curarsi nessuno. Io concludo la mia campagna con lo slogan di Letta, fra due anni, e tutta l'Europa. Cioè, la sinistra con un po' di... Allora, stia per... Ha capito? Vediamo se riusciamo a farci capire. Sì, vediamo però se riusciamo a farci capire. Perché lei aveva detto all'Europa che se vince, la pacchia è finita. Per me. Ah, la pacchia è finita. Per me. È certo. Vera, franco! Serma. Agnazio, e non me rompe il cazzo. Da pagata. Da pagata. Non dipende da me, Agnazio. Le indicazioni mi hanno dato, sono tre. E sono indicazioni base, chiare, pagate. Sì. Atlantismo, europeismo e bilancismo. Sto parlando con la Russia. Se c'è il fratello che fa il saluto romano. Eh già. Te ne stai a casa tua. Hai capito, Agna? Grazie, Agna. Sì, buonasera. Complimenti, eh. Buonasera, Dica. Buonasera, ha vinto le elezioni. Complimenti. Cosa? Ma che stai a dire? State zitto. Vabbè, volevo complimentarmi, ha vinto le elezioni. Ma di che stai a parlare? Ha vinto le elezioni? Ricordate che ho sotto a Garbatella. Sì, ho capito. Te gonfio, ho messo gonfio a vena. Ma no, ma ha vinto le elezioni. State zitto. Domenica ci sono. State zitto. Ma perché? E' mentana che si è inventato sta maratona televisiva. No, no, ci sono state le elezioni che lei ha vinto. Oh, dillo piano. Ma come dillo piano? Da pagata. Ma come sei? Da garbata. Ma sono mesi che volete governare. Garbata, garbatella. Garbata. Dove sta zitto? E non fa te sentire. Ma non può vergognarsi. Oh, fammi capisse. Deve governare. C'è la tempesta perfetta. Eh, ho capito. Il conto è prima. Eh. È prima. Sì. Quando c'è stata propaganda elettorale. Ah, certo. Poi in piazza, adesso si gonfia la vena. Ma quando poi arrivi a sta poltrona qua. Adesso sono dolori. Quando sei in sta poltrona qua. C'è la tempesta perfetta. Eh. Questa è mica la poltrona normale. E' quella del Presidente del Consiglio, certo. E' la poltrona del governo. Del governo, certo. Te devi da sedere. Eh, bisogna governare, certo. Ti viene questo senso di pacatezza, riservatezza. Cos'è? Non c'è più chi ha vinto. Ma che è sta roba? C'è chi deve governare. Ma cosa sta? E piano piano, quando arrivi alla poltrona, diventi un'altra cosa. Ma cosa fa? Mi dica, mi dica. Ma fa draghi. Buonasera, buonasera. Mi dica, guardi. Ma parla come draghi. Noi banchieri. Ma lei non è un banchier. Abbiamo un cuore. Sappiamo raccontare? Meloni. Barzellette. Meloni. Rassicuriamo l'Europa. No, 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 no. Rassicuriamo i mercati. Ma parla come draghi. Guardi, è inguardabile, posso dire. Ma sarà inguardabile te. Ma scusi un attimo, i mortacci. Ma chi è? Chi è? Che vuoi, Lollo Brigida? Ah, vedi. E state zitto, Lollo Brigida. Non devi te rompere i coglioni. Da carbata. Con sta storia che cambiamo a Costituzione. Oh, oh, Lollo. Non devi spoilerare. Ah, quindi lo fai? Quello è il finale della prima stagione. Ah, quindi lo parete, l'ha cambiata. E dai, ma guarda sta testa, degognato, perché è mia cognata, capito? Lollo Brigida è mio cognato. Sì, sì. Non l'ha mai capito? Che quando te siedi su sta poltrona qua, si cambia. Ma non può fare draghi. E il PNRR, così spettato, dobbiamo consultare la von der Leyen. Ma vuole smettere di fare draghi? E che faccio? Faccio me stessa? Ma certo. E se alzo me stessa, alzo il braccio. No, stia ferma, stia ferma. Se alzo il braccio e lo spread schizza 500, 600, 700. Lo tenga giù, infatti. A seconda dell'altezza del braccio, no? Sì, sì, va bene, lo tenga giù. Ti ricordi Berlusconi quando l'hanno cacciato e poi è arrivato Monti? È certo. L'ho votato pure io. E che famo? Perché c'era lei, eh? Io mi siedo qui e lo spread scende a 0,90. Mi scusi un attimo, ma Molligone, ma che stai a dire dei culi chiacchierati? Si, ha parlato degli omosessuali. Non puoi andare a dire che le coppie omosessuali non sono legali. Ma l'ha detto però, eh. L'hanno poi spollerà quella, la terza stagione. La gente non vuole sapere come va a finire. Eh dai, eh dai. Senta, Molligone, scusi, in sostanza lei vuole il ritorno di Draghi. Tu non ci hai capito un cazzo. Vabbè, ma... Ignazio, cazzo. E che pagata. Lei vuole il ritorno di Draghi? Io sono Draghi. Ma no. L'unico modo per non far tornare Draghi è che io sia Draghi. E così non si vota più. Ah, addirittura. O. Cosa? Stava spollerà la quinta stagione. Ma non si voterà più. Ammazza che zuzzeria. Ma cosa? Se lo ricorda? Mi... Buonasera Presidente Meloni. Buonasera a tutti voi, a tutta la stampa. Buonasera. Ci volevo fare una piccola precisazione. Ah, prego. Ho saputo che col discorso alla Camera... Sì. ...so piaciuta. Sì, molto. Ai progressisti, agli intellettuali. Ma sì, guardi. Alla sinistra del Cavalvio. Questo non lo so, però... Tutti a di che brava, quanto è umana. Eh sì, è vero. Non me l'aspettavo. Vabbè, in effetti, guardi, è piaciuta molto. È piaciuta sta roba dell'underdog? E quello è un colpaccio. Se sono commossi. Beh, sa la sua vita. Bello che vi siete messi a piagne. Eh sì. Non... Fermatevi. Come? Non vi spiego, perché dovete continuare a piagne. No, come dobbiamo? Fammo veloce che si è fatta una certa. Va bene, ma non... Allora, partiamo dalla natura. Voglio riassume... Sì. ...quello che ho detto... Sì. ...al Senato martedì. Va bene? Sì, alla Camera martedì, poi al Senato mercoledì. Sì, va bene, sì. Che significava dire la natura con l'uomo dentro? Ecco, cosa significava? Non ti spiego. Sì. C'era un glienax. Vabbè, ma magari... Tiate un fazzoletto. Ma perché? Allora, tu vedi un bosco... Sì. Dici, bello il bosco con il laghetto. Eh, sì. Sì, ma io che sono uomo... Eh. Dove dormo? Ah, magari dormo a casa, il bosco... Non sono mica in istrice. Vabbè, che c'è in... In tenda? Eh. No. C'era un glienax. Sì, vabbè. Che dice che sta dentro la natura e non sa dove dormì, allora che fa? Costruisce un alberghetto di 500 camere. Eh, ma no, però... Sì, ma dove magni? Eh. Te faccio un po' dei ristorantini. Sì, ma dove parcheggio? Te faccio un'autorimessa sotterranea. Ma no, ma così si deve passare. E poi vai al ristorante. Eh, ma così... E che c'è fatto così, vestita da underdog al ristorante? Eh, ma sì... Non ce lo fa in outlet? No. In bullying, la pista dei cocarti. Dice, ma così sparisce il boschetto con il laghetto. Eh, sì. Sì, ma così andiamo direttamente al punto due. Cioè? Che non disturbà l'impresa che vuole fare. Ah, quello l'ha detto, certo. Hai sentito come ho detto fare? Sì, ma infatti è molto teatrale. Sì, sì, sì. E che vuol fare l'impresa? E cosa vuole fare l'impresa? Radare al suolo e al bosco. Eh, no, ma non lo può fare. Stai a pagna? Stai a piangere? No. Stai a piangere? Sì. Tu mi disturbi. Ma ecco, non è che... Non puoi di... Non le puoi fare. Stai a disturbare. Ma uno si può... C'è solo due cose che mi stanno a disturbare in sto paese. Lei è il punto tre. Che cos'è il punto tre? A burocrazia. Ecco. Vuoi piangere? No, anche no. Tu le hai pagate le tasse questi anni? Eh, certo, sì. Bravo coglione. No, no, no. A quelli invece... A questi invece... A quelli... A quelli che in questi anni invece non le hanno pagate? Sì. Io faccio a tregua. Eh, infatti non è... Molto fatto piangere. È un possibile. Ti sei emozionato, negretto? No, allora, come si permette? Ah, no, scusa. Ero in controluce e mi sembravi negro. Ma non importa. Ma lei non è negro, no? No, ma non è quello. No, allora salta al tu. Ma come? Ma come sta... Serracchiani? Guardami. No, stia buona, stia buona. Che fa? Ti sembro una che sta dietro agli uomini? Parla da Serracchiani. Sì. Serracchiani? Sì. No, stia buona. Con questa opposizione, qua ne fanno cinque. Di cosa? Manu De Anni, di legislatura. E dico ai giovani, protestate, andate in piazza, siate liberi. Ma certo. E ricordatevi che voi siete liberi, ma noi siamo armati. No, no. Serracchiani? No, no. No, no. No, no. Buonasera, presidente Meloni. Buonasera a lei. Lo dico a lei e a tutti gli italiani. Sì. E' importante ricordare il 9 novembre, una data spartiacque nella storia, non solo dell'Europa, ma dell'Occidente, del mondo intero. Cioè? La caduta del muro di Berlino. Ah, certo. La caduta al muro di Berlino segna la fine dei totalitarismi del Novecento, che sono stati il comunismo. Certo. E basta. No, no. E basta. No, 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 no. Gli altri sono stati fenomeni minori che si trovano sui libri dei feticisti della sinistra. Ma che feticisti della sinistra? Il comunismo che ha danneggiato l'Europa. Sì. Ha danneggiato l'Europa, ma soprattutto la nostra nazione Italia. Ma quando mai? Come non ricordare l'onta del ventegno comunista. Non c'è stato. Che ha portato quel tiranno del Berlinguer a fare una guerra assurda in Ediopia. Non era Berlinguer. Con il sogno dell'impero comunista. Ma cosa stai dicendo? Per non parlare della vergogna delle leggi razziali di Ingrao. No, che Ingrao può venire. Ingrao. Ma che Ingrao. Ma soprattutto la marcia su Sassari. Eh. Delle feroci truppe di Occhetto. Ma no, ma neggia. Da cui nasce quell'atroce sigla. Cosa? SS. Cosa? Sassari. Ma no. Ma che Sassari. Come no? Come no? Non c'è stato il ventegno comunista. Ma non era Veltroni quello che si è alleato con quel pazzo, con i baffetti? Ma chi? D'Alema. Ma no. No, guardi. Senta. Allora. Non era pazzo. Neanche pazzo. No, no. E poi non si può paragonare all'altro. Comunque questo si chiama revisionismo storico. Lei omette di parlare, sì, del nazifascismo. Non lo neghi. Il nazifascismo che ha rovinato l'Italia e l'Europa. Infatti si parla di ventegno fascista, no? Non di ventegno comunista. E basta. E basta. Sì, ha capito. Parliamo di limitazione delle libertà legge naziali. Limitazione libertà legge naziale. Sì, ma non faccio la sufficienza. L'intellettuale al gonfino, soppressione dei partiti antagonisti. Ho capito? Il quadro. E basta, dai. Ma scusi, lo nega. E se gonfia la vena sotto Carmadella. Ma se lei lo nega, scusi, eh. Non lo nego, va bene? Quindi? Riparto. Riparta. Sto stroppo. No, oh, oh. Eh, ma che? No, scusi. Ma no, ma stavo stanno nudi. Eh, sì, sì. Diciamo così. Cari italiani, cari italiani. È importante ricordare il 9 novembre. Sì. Perché il 9 novembre si festeggiano lì. Cosa? Lo dica. Cari italiani, è importante ricordare il 9 novembre, festeggiarlo, ricordarlo. Perché? Perché se festeggiano i Santi, Oreste e Ornella. Ah no. È contento? Eh, va bene. Auguri a Lavanoni. Auguri. Meglio così comunque. Grazie. Grazie. Grazie.